Si conclude oggi la tre giorni di Giustacchini Office Store, questa nuova apertura in via Roveggia 124 a Verona che ha accontentato davvero tutti i gusti. Un megastore di 2000 metri quadrati dedicati alla scuola, all'ufficio e alla casa. Ma facciamo un passo indietro, è iniziato tutto giovedì con una fantastica inaugurazione in cui sono stati accontentati i gusti degli sportivi e non solo, con i giocatori dell'Ellas e i giocatori della Marmilanza. Venerdì invece si sono soddisfatti i gusti degli amanti della tradizione locale con una degustazione del risotto di Isola della Scala Melotti proprio qui da Giustacchini Store che ha accolto nella pausa pranzo tutti i lavoratori della zona industriale di Verona. E oggi sabato 12 maggio stiamo aspettando l'intermediatrice immobiliare più famosa d'Italia, con i suoi vendo casa disperatamente, cerco casa disperatamente, appassionato, tutti coloro che sono amanti del buon gusto e che vogliono un tocco di originalità nella propria abitazione. E lei è la persona giusta per consigliarci come utilizzare al meglio i prodotti del Giustacchini Store. E finalmente eccola qui, meravigliosa, sul tacco 12 imprescindibile come sempre, Paola Marella. Hai già avuto l'occasione di fare un giro tra gli scaffali di Giustacchini, quali sono le cose che ti hanno colpito di più? Beh innanzitutto questi fiori straordinari. Io purtroppo non ho un gran pollice verde, chi mi conosce lo sa, però non resisto davanti a questi colori, a queste composizioni che so che ha curato Antonio e che sono bellissime. Poi mi è piaciuto molto tutta la parte che si occupa anche di imballaggio. Mi piace moltissimo il pacchetto, la ricerca dei colori, io adoro il colore. Quindi mi piace molto come hanno diviso lo spazio, si trova tutto con grande facilità. Oltre alla parte della casa, in una casa particolare potrebbe esserci anche uno studio. Qui la parte dell'ufficio è molto molto sviluppata. Qui c'è tantissimo per l'ufficio, devo dire che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io credo che qui ci si potrebbe passare un pomeriggio intero solo per vedere tutto quello che c'è dell'ufficio. Perché per me, a me ha sempre affascinato molto e poi vedo anche delle grandi marche, quindi non solo cose pratiche, anche delle belle cose di gusto. Per cui direi che qua ci si può passare un'intera giornata senza avere un minuto libero. Quali sono i must per questa nuova stagione? Visto che sta per iniziare anche la tua nuova stagione su Real Time, dacci qualche consiglio su cosa non deve mancare nella nostra casa e su magari quali sono i colori che ci preparano alla bella stagione. Quest'anno noi abbiamo usato colori meno vivaci e poi abbiamo usato delle tipologie di posa di colore un po' particolare. I materici per esempio, sarà una novità che mi farà piacere perché insomma per dare qualche spunto nuovo. Quindi colore sempre comunque, non l'arcobaleno in casa, quello lo dico sempre, colore sì ma molto ben organizzato. Materiali nuovi perché avremo dei materiali anche poveri ma molto belli, cioè molto ben facilmente posabili. Quindi insomma ci sono diverse novità. E allora Davide Giustacchini, una tre giorni davvero meravigliosa che si sta concludendo nel migliore dei modi. È arrivata anche Paola Marella e devo dire che una folla enorme si è accalcata intorno a lei per avere i consigli su come utilizzare i tuoi prodotti. Un momento bellissimo in cui i bambini e le famiglie stanno scoprendo una proposta commerciale diretta e semplice come la nostra. Bellissimo, lo devo dire molto bello e emozionante. Grazie. So che è difficile scegliere perché in questi tre giorni i momenti importanti sono stati davvero tanti. Però se dovessimo leggerne uno su tutti, quale sceglieresti? Ah, nessuno dei tre. Sceglierei il momento in cui abbiamo deciso di fare questo progetto, il momento in cui ci siamo trovati a proporre un'idea e a raccogliere delle adesioni entusiaste all'idea. Continua la festa Giustacchini e continua il pomeriggio in compagnia di tutti gli ospiti che sono venuti qui per l'inaugurazione di questo nuovo megastore e che sono venuti anche per ricevere i consigli dell'affascinante Paola Marella. E allora ricordatevi che Giustacchini si trova in Via Roveggia 124 a Verona, aperto praticamente sempre a tutto per la scuola, la casa e l'ufficio Giustacchini Store.